che bella giornata studia l'italiano anche lei? com'è buono questo caffè che noia, non ho niente da fare che cosa fai di bello? vado a casa di Lucia che persona simpatica qual è la sua professione? sono già le undici ma che dici? non capisco niente è tanto tempo che non ci vediamo l'hai visto anche tu? mi piacerebbe tanto tornare in Italia non ho nessun impegno andiamo a cena insieme? c'è un tabaccaio da queste parti? ho proprio voglia di fare un bel viaggio prima lezione al telefono pronto? vorrei parlare con Davide per favore Davide non è a casa io sono Francesca chi è? sono Marco ciao Francesca come va? bene grazie e tu? benissimo sei a Milano? no non sono a Milano sono a Roma arrivo a Milano domani mattina benissimo a domani allora d'accordo arrivederci sei di Milano? no non sono di Milano sono di Roma Marco è di Roma Francesca e Davide sono di Milano siete di Firenze? no non siamo di Firenze siamo di Bologna prima prima lezione al telefono pronto? vorrei parlare con Davide per favore Davide non è a casa io sono Francesca chi è? sono Marco ciao Francesca come va? bene grazie e tu? benissimo sei a Milano? no non sono a Milano sono a Roma arrivo a Milano domani mattina benissimo a domani allora d'accordo arrivederci sei di Milano? no non sono di Milano sono di Roma Marco è di Roma Francesca e Davide sono di Milano siete di Firenze? no non siamo di Firenze siamo di Bologna esercizi esercizi pronto? vorrei parlare con Davide non siamo di Bologna siete di Firenze? Davide non è a casa come va? bene grazie e tu? grazie a tutti i in Roma. Chego in Milano in maniera di maniera. Molto bom, quindi. Até amanhã. De accordo, até logo. Você è di Milano? Non. Non sono di Milano, sono di Roma. Marcos è di Roma. Francisca e David sono di Milano. Você è di Florencia? Non, non siamo di Florencia, siamo di Bologna. Alò? Gostaria di parlare con David? Non siamo di Bologna. Sono di Florencia. David non è in casa. Come va? Ben, grazie. E você?